Prima di tutto l'efficienza energetica è un'opportunità, è un'opportunità che sta diventando tale per diversi operatori del settore, ha una convergenza di interessi da aziende, dalle caratteristiche molto diverse, dalle municipalizzate che lo vedono come impatto sul locale, alle grandi aziende utility che lo vedono come nuovo settore, addirittura ai fonti di investimento che ne vedono la crescita e la marginalità importante. Le sfide però sono trovare la formula giusta perché è un mercato che sta evolvendo, è un mercato che ha clienti e tipologie di servizi richiesti molto differenti tra di loro e le aziende stanno cercando di capire qual è il modello operativo sottostante che gli permette di essere efficaci e allo stesso tempo in grado di avere tutte le competenze che la clientela richiederà.